Io sono diventata testimone di giustizia senza neanche capirlo, perché insieme a un marasciallo dei carabinieri di allora del paesino di Montevago, dopo la morte di mio marito, parlando con lui, volevo capire come dovevo fare, perché io non ero la classica vedovella che si veste di nero e che piange il morto e finisce lì il fatto. Io quando ho visto quello che era successo, perché sono stato proprio testimone dell'omicidio di mio marito, volevo assicurare nelle mani della giustizia questi malfattori, perché avrebbero fatto del male ad altra gente, come in passato era stato il mio paese, perché prima il mio paese era come un far west, la mattina andavi a fare la spesa, ti ritiravi a casa, non era neanche sicuro che non eri quantomeno gambizzato. Ho cercato di parlare con questo marasciallo non capendo l'entità di quello che stavo facendo. Lui mi portò con una sostituta procuratrice di Sciacca, Morena Plazzi, a incontrare Paolo Borsellino e da lì, quando raccontai grossomodo la mia storia ancora senza scrivere nessun verbale, lui vedendo che la situazione era abbastanza pesante, perché coinvolgeva sia la procura di Sciacca che la procura di Marsala, ha deciso che era il caso che io venisse allontanata dalla Sicilia. Dopo ho scoperto che in realtà ero diventata una testimone, ma non sono andata con la convinzione di dire io sono una testimone, no, questo mai, perché non lo sapevo neanche il significato. Paolo Borsellino, a parte essere un procuratore, rappresentante della legge, era un uomo di un grande carisma, cercava in tutti i modi di non farci traumatizzare, perché sai, i primi periodi sono stati abbastanza pesanti, spostamenti continui, interrogatori continui per ore e ore e ore, staccavamo appena per mangiare qualcosa e poi si riniziava, con questa bambina in caserma che non riuscivano più a tenerla, gli compravano la bicicletta, liberavano gli spazi all'aperto per farla giocare, cioè cercavano in tutti i modi di, perché non me ne volevo separare, cercavano in tutti i modi di tenerla a suo agio, cioè era una situazione abbastanza pesante. Lui in quei casi era molto umano, una volta molto sconfortata, disse, io non ce la faccio più, non è normale tutto questo, perché io devo essere come se fossi in galera e questi qua se ne vanno girando per il paese mio, perché in fondo era il mio paese quanto il loro, pensavo di avere, penso di avere più diritto di andare al mio paese io che loro che hanno commesso tutti questi omicidi. e lui sempre a confortarci, dicendo che avevamo fatto la cosa giusta, che un giorno sarei stata una donna felice, che un giorno tutto questo mi sarebbe stato ricompensato da Dio. Innanzitutto quando sono, è qualche anno che con Umberto Lucentini volevamo fare questo libro. Non so perché proprio adesso, però forse non erano maturi i tempi, io non ero ben disposta a rimettermi in gioco, però adesso siccome è da tempo che giro nelle scuole, i ragazzi la mia storia la conoscono a grosso modo, molti attori, registi hanno interpretato tutto a modo loro, la nostra semplice storia fra l'altro. Molti hanno fatto in modo che dividessero la mia vita da quella di Rita Atria, quando che fondamentalmente il nostro percorso è unico, cioè io penso che noi due siamo indivisibili. Lei non avrebbe testimoniato se non avesse scelto di fare la stessa cosa mia. Io non sarei purtroppo brutto da dire conosciuta se lei non avesse fatto il gesto estremo del suicidio. Sono passati quasi 22 anni, sono tanti 22 anni. Diciamo che non è che io vivo una vita completamente blindata perché adesso vivo in località protetta, è una località abbastanza tranquilla e perciò non ho bisogno di una scorta H24 perché non sarebbe vivibile come nel primo periodo, sempre seguita in tutti i miei spostamenti. Io vengo seguita quando vado fuori dalla località protetta, quando specialmente vado nelle scuole, faccio convegni, queste cose sì, però cerco fra virgolette di avere una vita mia, io vado a lavorare perché se non lavoro non mangio come tutto il resto. Cerco di viverla non pensandoci, viverla giorno per giorno. Pensavo di poter mettere le due mie vite, di separarle, il passato e il presente. Invece il mio passato e il mio presente sono sempre attuali, giorno per giorno. Anche se ho cambiato nome, anche se tutto una serie di cose, però le mie vite sono uguali, sono due vite parallele, non posso dividerle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.